Axel Babine Ruolo? Centrocampo A che giocatore ti piacerebbe assomigliare e perché? Pirlo, perché con le sue giocate illumina la partita Il compagno di squadra che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Filippo Frisari Quali ritieni essere i tuoi pregi e i tuoi difetti in campo? Spregi Ho una buona vista di gioco Mentre i difetti forse sono un po' troppo lento Numero di maglia preferito e perché? Quattro perché da piccolo giocavo sempre con quella maglia Sport preferito oltre al calcio? Basket La materia scolastica preferita è il setto ginnastica? Matematica Che cosa rappresenta il calcio per te? Quasi tutto Per quale squadra fai il tifo? Milan